Arricchiamo adesso il nostro esempio, introducendo un predicato che ci consente di poter derivare le coordinate X ed Y di blocchi che non sono visibili dalla telecamera, che ricordo è posizionata sul soffitto. Come vediamo qui dal database, si suppone che il sensore sia stato in grado solo di vedere la presenza dei blocchi A, E e D e li ha collocati sul piano cartesiano XY, ma i blocchi B e C sono nascosti dal sensore. Però, mediante un opportuno predicato, noi possiamo ricavare le coordinate XY partendo sia dalle coordinate XY dei blocchi visibili, ma lavorando anche sul predicato ON. Sappiamo che il blocco A si trova sul blocco B e il blocco B si trova sul blocco C, quindi il blocco B e il blocco C devono avere le stesse coordinate sul piano XY del blocco A. Quindi possiamo generalizzare questo concetto dicendo che un blocco A che un blocco ha coordinate X ed Y se è visibile quel blocco e si trova effettivamente in posizione XY. Alternativamente, se il blocco non è visibile, si troverà in posizione di coordinate XY se è coperto da un altro blocco. Chiamiamolo B0 e le coordinate XY di questo blocco B0 che copre B sono proprio XY. Perché due blocchi che stanno sovrapposti uno sull'altro hanno in questo dominio le stesse coordinate XY. Allora adesso salviamo il lavoro fatto, compiliamo il buffer e andiamo a vedere come funziona il programma. Per vederlo lanciamo il trace. Si tratta di un debugger, un debugger tipicamente utilizzato in ambienti di programmazione dichiarativa che ci consentirà di seguire passo passo il goal che andiamo a lanciare. Allora per andare per gradi supponiamo di voler determinare le coordinate XY di un blocco che effettivamente è visibile. per esempio il blocco A. Lanciamo il goal, parte il trace che ci fa vedere che il goal unifica con la testa della prima delle due clausole che abbiamo appena definite. E a questo punto viene attivato il nuovo risolvente, vai a vedere se è visibile un blocco A. Perché A? Perché la variabile B aveva unificato con la costante A. Allora andiamo avanti qui passo passo. Si vede che questo blocco A è effettivamente visibile, c'è l'unificazione con questo predicato. Per cui il goal termina immediatamente e vengono restituite i valori 2 e 5 in corrispondenza di XA e YA. Quindi la risposta calcolata sarà ad XA sostituisci 2, ad YA sostituisci 5. possiamo chiederci se ci sono altre soluzioni, cioè facciamo fallire l'ultimo passo di risoluzione che aveva portato alla clausola vuota e quindi attiviamo artificiosamente il backtracking. Quindi andiamo a risalire al penultimo goal, quello che aveva unificato con la prima clausola e lo facciamo unificare quindi con la seconda. Questo giallo significa backtracking. Quindi A unifica con questo B qui e XA unifica con questa X, YA con questa X. A questo punto andiamo passo passo, viene generato il sottogol di sinistra on B0B, cioè B0 è una variabile mentre invece B è A. Quindi si va a vedere se c'è un blocco che si trova sopra A ma questo goal, come vedete il rosso vuol dire fallimento, fallisce perché non c'è nel database nessun blocco che si trova sopra A. Quindi questo non unifica con nessuno di questi predicati e quindi questo goal fallisce e il prologue ci dice false, non ci sono altre copie di coordinate che soddisfano la richiesta iniziale. Adesso facciamo invece una richiesta un pochino più intelligente e andiamo a vedere quali sono le coordinate XC ed YC del blocco C. Lanciamo di nuovo il goal unifica con la testa della prima delle due clausole. Viene lanciato il goal C, C per andare a vedere se il blocco C è visibile non è visibile e quindi c'è il backtracking, si va sulla seconda clausola si va a vedere se sul blocco C c'è un altro blocco sì, effettivamente questo blocco si trova è B allora si va a vedere quali sono le coordinate XY del blocco B si va a vedere se il blocco B è visibile il blocco B non è visibile allora si va a vedere, backtracking, si va a vedere se sopra il blocco B c'è un altro blocco sì, viene trovato un altro blocco sopra B che è A allora si va a vedere quali sono le coordinate del blocco A le coordinate del blocco A si va a vedere se il blocco A è visibile sì, il blocco A è visibile, le sue coordinate sono 2 e 5 e quindi a questo punto, come vedete qui, la faccina che ride vuol dire che è stata trovata la clausola vuota e quindi adesso il plorog si prepara a tornare indietro e quindi a effettuare la composizione di tutte le sostituzioni tutti gli unificatori che sono stati utilizzati nel corso delle risoluzioni precedenti nel percorso dalla radice fino alla clausola vuota restringendo poi alla fine la composizione alle sole variabili che comparivano nel goal originario nel goal originario compriva una variabile xc e yc che avevano unificato con queste x e y che di volta in volta erano xy nuove e alla fine quindi viene restituita la risposta calcolata che a xc fa corrispondere 2 e a yc fa corrispondere 5 bene